Inaugura Veia Adventure Park, il parco divertimenti a tema per gli amanti della natura. A Sant'Anna d'Alfeido nel cuore dell'Alessinia, proprio accanto al ponte di Veia. C'è un minuto questa idea e abbiamo cominciato pian pianino a pulirlo, poi abbiamo chiamato degli amici che costruiscono parchi e più anche gestiscono il parco. Sono venuti qua a fare un sopraluogo, hanno visto le piante, hanno visto l'occasio e ci hanno dato dei buoni consigli e da lì siamo partiti con un progetto. Siamo orgogliosi di essere qua oggi per l'iniziativa di questa famiglia che ha voluto valorizzare questo posto che è stupendo, già il ponte di Veia che è un'attrattiva in sé, però credo che sia straordinario questo gioiello che si aggiunge alla nostra comunità nel rispetto dell'ambiente perché hanno fatto un'iniziativa con questa casa, con il riciclo, tutto recuperando l'energia dell'ambiente e questo credo che impreziosisce e dà un ulteriore valore al territorio anche attraverso il turismo, questo modo di viverlo che sicuramente spero che avrà successo e fortuna. Ci rivolgiamo alle famiglie, ma anche agli utenti singoli ovviamente, con diversi percorsi, il percorso verde che è il percorso più semplice, adatto a bambini veramente piccoli, il percorso blu per chi vuole cimentarsi con qualcosa di più difficile, c'è poi il percorso rosso che è quello più impegnativo anche fisicamente, niente di impossibile ovviamente e poi c'è il percorso con la zipline che è quello un po' più adrenalinico dove si è appesi, si fa un volo libero praticamente di diversi metri in andata e in ritorno. Il bello del parco è che è dotato di un'attrezzatura che rende impossibile sbagliare e quindi cadere o comunque farsi del male. Per maggiori informazioni e per organizzare la vostra gita visitate il sito www.veiadventure.it o la pagina Facebook.